Ciao a tutti e benvenuti in un altro mio video, come nel video precedente ho lasciato la finestra aperta perché fa molto caldo quindi mi scuso già per i rumori molesti che potete sentire però, questione di sopravvivenza questo è un video haul, sono prodotti che ho acquistato nell'arco dei mesi, quindi non adesso ma veramente nell'arco dei mesi che però ho messo da parte per farvele vedere in questo video allora il primo prodotto che vi mostro che ho in mano, volevo prendere però la scatolina, eccola qua è questo pennello qua, è un pennello che ho acquistato dai cinesi, pagato 2,90€, questa è la scatolina di Beautiful Show, è la marca, un pennello che io sto già utilizzando ovviamente perché l'ho comprato un bel po' di tempo fa è un pennello con tante tante setole, molto molto morbide, l'ho già lavate diverse volte e non ha perso un pelo e mi piace veramente tanto per applicare la terra, per applicare la cipria, veramente un prodotto che vi straconsiglio se lo trovate ve lo consiglio perché costa veramente poco ed è validissimo sempre nel solito negozietto ho acquistato questa spazzolina a 3,90€, ve la mostro questa non l'ho ancora utilizzata perché aspettavo appunto di farvela vedere la spazzolina in questione è questa qua, da un lato ha questi dentini in silicone veramente molto molto morbide e dall'altro lato invece ha proprio una spazzolina con le setole ultra 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 fitte però veramente molto delicate, molto morbide e quindi niente, lo utilizzerò e vi farò sapere la Wish invece, di Wish vi ho fatto qualche video haul, ve li lascio tra le schede nell'info box avevo ordinato anche questa che però poi mi sono scordata di farvela vedere in uno di quei video praticamente questa è la reggi maschera in tessuto, quindi quando andate ad applicare la maschera in tessuto con questa invece di stare sdraiati, aspettare che passino quei minuti mettete sopra la maschera in tessuto questa qua, lo legate alle orecchie e con questa potete andare in giro per casa a fare le vostre cose perché tanto la maschera viene tenuta ferma da questo aggeggio veramente utilissimo, se ritrovo il link ve lo lascio comunque su Wish trovate tantissimi di questi prodotti io vi lascio il link di quello che ho acquistato io non so se ha sempre il solito prezzo ma io lo pagai tipo qualche centesimo non arrivava neanche a un euro ho acquistato da Tigotà non so se è sempre lo scontrino, sì questo allora a 9,95 euro ho acquistato questa acqua dermoprotettiva leggera la calendula e avena ne ho sentito parlare benissimo, ho voluto acquistarla sono 300 ml, il 99% degli ingredienti naturali non l'ho ancora utilizzato, ho tante aspettative però su questo prodotto sempre a Tigotà ho acquistato questa cosa qua per voi da mettere nel giveaway che ci sarà tra poco ed è una mini taglia della maschera per capelli di Ecos con il realizzato di semi di moringa vegan, certificato ICEA tutti ne parlano stra bene di questa maschera io ho la full size ma ancora non l'ho utilizzata e ho pensato di prendere questo per voi e questa mini taglia l'ho pagata 1,49 euro ho acquistato anche un altro prodotto di cui ne ho sentito parlare abbastanza bene della bioteca italiana 2,99 euro della linea quella al melograno il latte detergente per il viso con olio di melograno a bio e il prodotto in questione è questo anche questo però non l'ho ancora utilizzato poi era in offerta a 1,60 euro la maschera questa qua nera di Garnier questa qua che ormai è stata mostrata in tutti i video questa purifica e idrata effetto matte al tè nero e acido ialuronico era appunto in offerta e ho voluto acquistarla ultimi due prodotti da Iversop ho preso a 1 euro le serviettine intime Soffidea senza alcol pH 4.5 queste qua che a me piacciono tantissimo quando le trovo le acquisto ve le straconsiglio e poi ho acquistato perché era in offerta senza stare a vedere come era l'inci a 2,49 euro ho acquistato questo prodotto qua che è un prodotto nuovo di Dav ed è una mousse doccia con olio di rosa morbidezza 24 ore nutrimento profondo si vedrà si vedrà com'è com'è fanno tanta pubblicità e ho voluto acquistarlo allora questi erano i prodotti che ho acquistato fatemi sapere se questi prodotti se qualcosa di questi prodotti l'avete provato e come vi siete trovati io vi saluto se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento se non siete iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi e niente ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao